Un libro per l'Europa di Thierry Vissol. Il libro di oggi è un libro, un pamphlet molto stimolante, scritto da Paolo Savona, che voi conoscete sicuramente. Si intitola J'Accuse, il drama italiano di un'ennesima occasione perduta e pubblicato da Rubettino nel 2015. Paolo Savona, questo libro è forte, tu accusi, ma chi stai accusando in questo libro? Principalmente mi concentro sulla situazione economica italiana e quindi mi indirizzo ai governanti italiani, però nel quadro degli accordi europei che si presentano come vincoli, piuttosto che come opportunità che era all'origine dell'Unione Europea. Sì, ma l'Italia si trova appunto in una situazione che ha creato diciamo in trent'anni e quindi tu vedi alcuni elementi che appunto dipendono del governo italiano ma che si trova impedito di fare le politiche che dovrebbe fare per uscire della crisi da questo carcao. Ma quali sono gli elementi che permetterebbero secondo te di uscire di questa crisi? Il primo è che non bisogna più aumentare le tasse, inizio dalla terza accusa, perché aumentando le tasse si aumentano le spese, quindi bisogna mandare ai cittadini l'avvertimento che per un lungo periodo ci sarà una stabilità nella pressione tributaria. La Banca Italia proprio ieri ha detto se togliete le tasse sulle case dovete toglierlo in via permanente altrimenti non funziona per lo sviluppo dei consumi. Il secondo punto è interessarsi più direttamente con politiche diverse tra il nord e il sud dell'Italia perché il nord è partito, si è saputo aggiustare, c'è un'altra cultura, congratulazioni per ciò che ha fatto, non c'è dubbio, mentre il sud è rimasto indietro e bisogna operare lungamente sul modello culturale, non più sulle spese. L'altro punto è riavviare il motore della costruzione edilizia più grandi opere pubbliche e naturalmente in ciascuno di questi compiti il ruolo dell'Europa potrebbe essere un ruolo di stimolo e di controllo, cioè non che l'Italia proceda secondo gli schemi del passato di aumentare l'indebitamento e quindi trovarsi difficoltà. In questo campo esistono per esempio i fondi di coesione, c'erano 45 miliardi sul periodo di sette anni passato e ci sono 37 miliardi previsti dal 2014 al 2020. Il problema è che questi fondi di coesione sono gestiti dall'Italia e dalle sue regioni. Allora come fare per utilizzare bene questi fondi? Guardi, i fondi di coesione sono modesti e poi hanno praticamente il compito di sanare le preoccupazioni e i costi sociali. Io parlo di intervenire sull'economia in un modo radicale. E come si può fare con delle finanze pubbliche, con un deficit pubblico? Il piano Juncker aveva questo scopo, cioè riuscire a finanziarsi e a mio avviso la soluzione migliore sarebbe stata quella della Federal Reserve americana che la Banca Centrale Europea finanziasse il piano Juncker. Per quale motivo deve comprare titoli pubblici o l'Italia compra titoli pubblici in un momento in cui i tassi sono bassissimi e non c'è una crisi di debito pubblico invece di finanziare il piano Juncker? Occorre fare qualche operazione coraggiosa a livello europeo come il piano Juncker e farlo partire sotto controllo europeo, cioè non darei il controllo alle autonomie regionali italiane per ovvi motivi anche di penetrazione della criminalità e anche di cattivo uso delle risorse. Ma veramente ancora una volta faccio un atto di stima e di riconoscenza nei confronti della Commissione Europea e cerchino di fare ciò che aveva fatto nel dopoguerra e con un mio collega abbiamo fatto la storia di Eugene Black e ciò che aveva fatto la Banca Mondiale con la Cassa del Mezzogiorno. E tu sei ottimista nell'idea che l'Europa e l'Italia potrebbero fare questa evoluzione? Guardi, se a un certo punto uno non è ottimista effettivamente alla fine può solo espatriare o entrarsene in un convento. Io resto inguaribilmente ottimista perché in effetti mi accorgo che l'Europa incomincia a riflettere solo che è in ritardo e poi viene di volta in volta sommersa da altri problemi. Il problema dell'immigrazione, dell'ISIS oggi sta sovrapponendosi a problemi economici che sono certamente meno gravi e affanna sempre, sta dietro ai problemi. L'unico modo è cercare di rendere veramente un'Europa unita, un'Europa democratica in cui ci sarà un governo centrale che comincia a gestire le risorse compreso il piano Juncker anche se è evidente che gli stati vogliono continuare a dire la loro, possono continuare a dire la loro. Cioè il consiglio dei capi di Stato può diventare per l'Italia impopolare quello che è il bicameralismo nella Costituzione italiana. Cioè la Commissione prende una decisione e loro la ratificano e quindi se non la ratificano torna indietro. Cioè c'è un meccanismo che può essere rivisto. Noi abbiamo bisogno di una migliore Europa, non di una non Europa o una diversa Europa. E allora speriamo bene che questo progetto si possa realizzare con dei politici che finalmente fanno politica per il bene pubblico. E quindi vi consiglio di leggere questo libro, questo pamflet, Jacuzzi, il dramma italiano di un'ennesima occasione perduta, pubblicato da Paolo Savona da Rubettino nel 2015.